Un sogno che diventa realtà? Una idea fantastica che alcuni decenni fa cittadini ed amministratori proposero timidamente e che abbandonarono subito tanta era per allora pura fantasia. Un tunnel, una funivia o una teleferica che avrebbe dovuto trasportare dalla valle dell'Agro al valico di Chiunzi e da lì giù sulla costa. Era allora una chimera che oltretutto incontrava l'opposizione di molti politici della costa che preferivano il turismo d'elite e non quello certamente popolare. Dicevamo un sogno che viene riproposto oggi dal sindaco di Angri, dottore Pasquale Mauri, che ha creduto in questa idea ed oggi la sta facendo diventare una realtà, presentando un progetto per il quale addirittura si potrebbero reperire fondi e dare il via a lavori che realmente potrebbero far diventare reale una idea fantastica, ritenuta allora irrealizzabile. Ma si sa, la vita è imprevedibile e ciò che non è reale oggi potrebbe diventarlo domani. Ma questo sogno è stato condiviso innanzitutto dai sindaci di Sant'Egidio Montalbino, di Corbara, di Tramonti, di Maiori e dal parco naturale. Quindi se c'è follia, in questo caso c'è follia generale. Se invece credere in un sogno ci crediamo tutti, tanto è vero che abbiamo avuto l'adesione di tutti questi sindaci con i quali stiamo organizzando una conferenza stampa per presentare nei dettagli il sogno che sarà esaminato nelle prossime settimane da un comitato regionale. Quindi fra non molto potremmo avere anche la risposta nel sapere se questo sogno può tramutarsi in realtà o no. Ma l'importante è aver utilizzato lo strumento che la legge ci consente, il progetto Jessica della Comunità Europea che mette a disposizione 100 milioni per questi progetti. E noi siamo stati ancora una volta solerti a accogliere al volo l'opportunità che la legge ci mette a disposizione. Perché se non noi non avessimo aderito a questo bando sarebbe stato sicuramente di una gravità inautile. Quindi siccome in un momento di grande disoccupazione, di grande ristrettezza economica, questo potrebbe rappresentare quello che da sempre i cittadini dell'agro si augurano, è quello che gli amministratori predicano, è un'offerta di occupazione di grande rilevanza. Quindi il sogno fa bene perché senza il sogno, senza i sogni, l'uomo perde, non vive. E noi viviamo e viviamo nell'interesse delle nostre comunità.